Ciao a tutti, in questo video scopriamo quali sono gli errori che gli empatici e dipendenti affettivi commettono frequentemente. Le persone empatiche tendono ad assorbire in maniera eccessiva le emozioni degli altri, tanto da farsene proprie, con la conseguenza di arrivare ad assumere comportamenti passivi e aggressivi. Inoltre, occupandosi oltremodo dei problemi delle altre persone, spesso e volentieri si scordano di prendersi cura di se stessi e delle proprie problematiche. Gli empatici sono convinti che gli altri siano sempre autentici e spontanei con loro e per questa ragione rimangono ripetutamente ingannati. L'empatico nel momento in cui si ritrova a polemizzare con la persona amata tenta in tutti i modi di entrare nel fulcro della questione senza mai considerare che probabilmente la relazione è giunta alla fine. Il soggetto empatico analizza a fondo qualsiasi parola, qualunque movenza del partner e il più delle volte fraintende tali comportamenti, lasciandosi così fregare soltanto per avere l'illusione di trarre un po' di benessere emotivo. La persona empatica tende a farsi castelli in aria e quasi sempre ha troppe aspettative nei riguardi del proprio compagno e l'effetto è quello di rimanerne frustrata e delusa. Nelle situazioni un po' difficili cerca di isolarsi senza contare sull'appoggio morale che il partner le potrebbe dare e tale atteggiamento non farà altro che mettere in seria discussione la relazione stessa. Il soggetto empatico tende a trascurarsi sia fisicamente che moralmente poiché preferisce prendersi cura dell'altra persona. Ma ti sei mai chiesta per quale motivo hai la necessità di essere amata e perché hai il terrore della solitudine e perché ti senti spesso fuori posto? Le persone che non sanno gestire le proprie emozioni sono inclini a sviluppare la classica dipendenza affettiva riducendo anche la propria autostima. Subentra anche il bisogno di appoggi esterni e l'incapacità di farcela da soli. La dipendenza affettiva in un rapporto di coppia si presenta con le seguenti particolarità. La relazione con il partner appare irrinunciabile per sentirsi bene. L'assenza di un compagno dà un senso di sconforto e sembra che la propria esistenza dipenda soltanto dalla presenza di qualcuno. Se l'altra persona viene a mancare ci si sente perduti tanto da provocare nella dipendente affettiva un senso di disagio psicofisico che può portare a dei veri e propri disturbi come un panico irrefrenabile, astinenza e paura smisurata dell'abbandono. Subentra anche una certa ambivalenza ossia il non sentirsi bene né insieme né in assenza del partner ed è proprio qui che si innesca un meccanismo distruttivo che ha come conseguenza l'accettazione degli abusi psicologici e fisici. L'autostima è completamente assente. Tutto ciò ha profonde radici attinenti alla propria infanzia dove si era soliti a rinunciare ai propri bisogni e alle proprie aspettative. La peculiarità del disturbo dipendente di personalità è l'esagerata necessità di appoggio e attenzioni morali e fisiche connessa al timore di ritrovarsi soli. Infatti quando una relazione finisce il dipendente affettivo va alla ricerca immediata di una sostituzione per riempire quel vuoto che si è creato. Tutto ciò fa comprendere che questo tipo di rapporti non sono centrati sull'amore bensì sul bisogno. La dipendenza affettiva va in conflitto con l'autoconsapevolezza. Non dimenticare mai che il valore dei tuoi pensieri stabilisce il valore della tua quotidianità. Ora prova a modificare il tuo modo di vivere da dipendente affettiva in questo modo. Ascolta attentamente la tua respirazione dedicandoti almeno 5 minuti al giorno nella regolazione del tuo respiro, ispirando profondamente e a lungo per poi ispirando gradualmente. Vai a passeggiare da sola e ritrova il piacere di rimanere in compagnia di te stessa. Mettiti davanti ad uno specchio e poniti alcune domande. Apprezza tutto ciò che fai e tutto ciò che hai. Ogni giorno devi prefissarti degli obiettivi da raggiungere. Osserva con una certa attenzione le persone intorno a te. Ma scopriamo alcune tecniche per raggiungere un certo equilibrio emotivo. È importante imparare ad ascoltare il proprio corpo con delle tecniche di rilassamento. Attivare le emozioni positive come l'allegria e la gratitudine generando così il benessere emotivo. Cambiare il proprio modo di pensare cercando di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Non vivere nel passato o nel futuro ma vivi nel presente e sii cosciente di tutto ciò che accade dentro di te. Ricordati che puoi nascere una seconda volta e lo fai quando scegli di amare te stessa. E tu ti definisci una persona empatica o una dipendente affettiva? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.